Ciao a tutti spero che stiate bene oggi è un gran giorno perché torna forse la serie più apprezzata del mio canale ovvero la serie in cui andiamo ogni mese a selezionare tre azioni che potrebbero essere interessanti da seguire per fare una prima entrata o semplicemente per accumulare in questo caso qua oggi andremo a vedere tre azioni che ho già in portafoglio ma qua sotto nei commenti fatemi sapere se avete qualche azienda da consigliare per il prossimo episodio visto che è una delle serie più apprezzate e visto che ci tengo a portarla ogni mese fatemi vedere qua sotto il supporto con un like e con un commento appunto come vi dicevo prima direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere la prima azione la prima azienda di cui vi voglio parlare è Mastercard quello che stiamo vedendo è il grafico ad un anno e come potete vedere Mastercard nell'ultimo anno ha performato negativamente di 1.65% contro un S&P 500 che ha performato nettamente peggio infatti la performance ad un anno dell'S&P 500 è all'incirca di un meno 8% se poi la performance la andiamo a misurare sugli ultimi 5 anni vedete quanto cambia Mastercard ha sovra performato l'S&P 500 e non poco infatti la performance comparativa all'incirca è di un più 70 di punti base tra i due benchmark attualmente Mastercard rilascia un dividendo del 0,62% che è relativamente basso ma la cosa che vi volevo farvi vedere è questa ovvero la crescita del dividendo negli ultimi 5 e 10 anni infatti la crescita che c'è stata è impressionante pensate che rispetto a 10 anni fa Mastercard ha un dividendo che è cresciuto annualmente del 32% ogni anno negli ultimi 5 anni la performance si è abbassata ovviamente perché la base comparativa è più alta ed è addirittura del 17% ogni anno e questo è uno di quei casi di dividend growth di cui vi parlavo in uno dei video precedenti ci tengo a precisare che le tre aziende di cui vi parlo oggi ma di cui vi parlerò sempre sono tutte tre aziende che rispettano praticamente tutti i requisiti del mio algoritmo infatti le tre aziende sono state selezionate tra una cinquantina di aziende che seguo io attualmente e tramite l'algoritmo ogni mese mi vengono dette quali sono le tre migliori potenzialmente a seguire in questo mese qua e se avete piacere come vi dicevo prima io ve lo porto mensilmente come vi dissi in uno dei precedenti video Mastercard come Visa tra l'altro ho fatto anche un video in cui paragono le due aziende e vi dico qual è secondo me la migliore attualmente ma la cosa che mi piace di Mastercard è che è leader indiscusso insieme a Visa in un mercato che potenzialmente potrebbe crescere all'incirca di un 18-20% anno per i prossimi 7-8-9 anni e capite che trovare aziende che hanno praticamente un duopolio in un settore che cresce così tanto non è mai da sottovalutare la cosa che mi sta piacendo tra virgolette di Mastercard è il fatto che se noi andiamo a prendere alcuni parametri di valutazione tipo un price to free cash flow e lo guardiamo negli ultimi 5 anni vediamo che potenzialmente siamo a sconto di un circa 10% rispetto alla media storica infatti la media è stata di 34 attualmente Mastercard ha un price to free cash flow di 31 sicuramente non è il più basso che abbiamo visto perché a marzo 2020 aveva addirittura un price to free cash flow di 23 ma sicuramente è un buon multiplo se noi andiamo a vedere invece un semplice price earnings ratio vediamo che attualmente siamo abbastanza tanto sotto la media del pie medio storico infatti abbiamo un pie di 36 contro un pie medio di 43 per quanto riguarda la situazione dei debitori abbiamo una situazione super accettabile infatti abbiamo praticamente 7 miliardi in cash e investimenti a breve quindi facilmente liquidabili contro debiti a breve termine di 270 milioni e debiti a lungo di 14 la cosa che non mi preoccupa assolutamente è il fatto che i debiti siano di 14 miliardi sul lungo termine ma Mastercard produca all'incirca un 10 miliardi di free cash flow ogni anno quindi sotto quel lato lì siamo super tranquilli sotto il lato margini anche qua la situazione è praticamente perfetta e pensate che ha un gross margin addirittura del 56% un net margin del 45% e le cose impressionate sono gli indici di redditività infatti ha un ROI di 153 un ROI del 50% ditemi voi e questo ci porta ad avere una valutazione sul conto economico di 9,33% per quanto riguarda la situazione dei multipli la situazione non è perfetta semplicemente perché rispetto alla media del semplice 500 Mastercard si trova in un settore ad alti margini e quindi per questo gli investitori attribuiscono a Visa come Master come ad altre aziende multipli più alti infatti la valutazione sui multipli è di 3,78 questo è dovuto principalmente al fatto che ha un P è abbastanza alto un price su free cash flow abbastanza alto e anche un earnings yield abbastanza basso se noi andiamo a fare un semplice discounted cash flow su Mastercard con un perpetual growth rate del 2,50% e un rendimento atteso del 10% anno possiamo vedere come attualmente Mastercard si è sottovalutata ma di poco questo vuol dire che se vogliamo avere più margini di sicurezza dovremmo cercare di comprarla a un prezzo più basso infatti il fair value è all'incirca 3,83% attualmente Mastercard quota 3,70% per quanto riguarda invece la valutazione sui multipli stimando una crescita all'incirca del 20% anno di aumento degli utili dalla situazione attuale quindi 10,23$ per azione di utile e attribuendo un price earnings di 30% all'incirca che come abbiamo visto prima è un price earnings accettabile sia per la crescita sia per il settore in cui opera otteniamo un prezzo da 3 anni all'incirca di 535$ che ci garantirebbe tra dividendo e possibile gain all'incirca un 46% di performance che non è per niente male detto questo passiamo alla seconda azienda ve lo dico già ovviamente essendo che nel video vi devo portare 3 aziende non sto a spiegarvi cosa fanno se avete piacere di approfondire la singola azienda vi consiglio di cercarvela io qua parlerò soprattutto di valutazioni e di perché mi aspetto possono essere interessanti da investirci poi se avete piacere che io approfondisca qualche azione in particolare magari fatemelo sapere questo nei commenti comunque la seconda azienda di cui vi parlo oggi è Alibaba di Alibaba sinceramente non è che ho tantissimo da dirvi penso che il grafico parli da sé considerate che negli ultimi 5 anni un'azienda che ha praticamente se stuplicato il fatturato ha fatto un meno 41% il grande punto di forza di Alibaba è il fatto che abbia delle valutazioni secondo me insensate attualmente però conto del free cash flow del prossimo anno ha praticamente un multiplo che è la metà rispetto a quello che aveva nel 2020 cioè due anni fa infatti ha un price to free cash flow forward di 17 che se noi lo paragoniamo a quello di qualche mese fa dove sostanzialmente io ho investito la maggior parte dei soldi era 9 vuol dire che se Alibaba mantenesse un free cash flow per i prossimi 9 anni come quello del prossimo anno quindi senza crescere basterebbero 9 anni per rientrare all'investimento solo con i flussi di cassa e nell'investimento otteniamo forse dopo Tencent o insieme a Tencent la migliore azienda cinese che ci sia al mondo ditemi voi se non era un buon deal probabilmente ma non ne sono ancora sicuro il mercato si sta rendendo conto che Alibaba questi prezzi qua a mio avviso è abbastanza un regalo soprattutto a quelli di prima e infatti ha fatto una crescita del 78% dai minimi che ha toccato qualche mese fa appunto però io non sono così sicuro che il mercato se ne sia accorto definitivamente infatti vi porto Alibaba semplicemente anche perché mi aspetto che essendo che il mercato non è efficiente potrebbe tranquillamente Alibaba tornare a prezzi più bassi potrebbe anche ritestare gli 80 dollari non lo escludo per niente e quindi a mio avviso fatevi trovare pronti per quanto riguarda lo sottopatrimoniale penso che Alibaba sia una delle migliori aziende al mondo insieme forse a Microsoft, Alphabet e poche altre aziende pensate infatti che ovviamente queste cifre qua sono i renminbi che sarebbe la valuta cinese a 463 miliardi di renminbi in cassa investimenti a breve contro un debito a lungo termine praticamente di 140 miliardi infatti tutti i rapporti lo sottopatrimoniale sono altissimi pensate che il voto di 9,33 su 10 è un voto del genere forse c'erano solo appunto Alphabet, Meta qualche trimestre fa e poche altre una cosa che sicuramente non mi fa impazzire è vedere un operating margin che è praticamente dimezzato rispetto a quello del 2018 ed è anche per questo motivo che Alibaba secondo me ha subito anche un crollo così elevato voglio però vedere Alibaba nel momento in cui rallenterà negli investimenti di crescita e si concentrerà su tornare a margini che merita e che le spettano e voglio vedere nel momento in cui farà queste manovre qua che multipli gli attribuirà al mercato perché a mio avviso Alibaba dovrebbe crescere tanto sia in termini di fatturato sia in termini di utile ma a mio avviso il prezzo dovrebbe anche aumentare i multipli quindi ci potrebbe essere un doppio guadagno da quel lato lì guardate anche in questo caso qua quanto sono aumentati gli investimenti ricerca e sviluppo per quanto riguarda le situazioni multipli direi che va tutto bene soprattutto il price to sales e il price to book che hanno raggiunto valori molto bassi quindi perfetto facendo un semplice discounted cash flow stimando un perpetual growth rate all'incirca di un 2,50% e una crescita del free cash flow per i prossimi anni all'incirca di un 7-8% otteniamo una potenziale sottolotazione all'incirca di un 57% infatti il discounted cash flow mi dà un frevelio intorno ai 160$ per quanto riguarda invece la valutazione sui multipli stanno abbastanza conservativi quindi stimando anche qua una crescita dell'utile operazione all'incirca di un 7-8% e attribuendo ad Alibaba un PE abbastanza conservativo perché secondo me 17% è abbastanza conservativo otteniamo un prezzo tra 3 anni all'incirca di 150$ che ci garantirebbe un guadagno potenziale all'incirca di un 45-50% fatemi sapere però anche le vostre valutazioni su Alibaba l'ultima azienda di cui vi voglio parlare si chiama Inmod so che non tanti la conosceranno e mi stupisce questo perché vedendo i multipli mi sembra una delle società più interessanti che ci siano attualmente sul mercato comunque è un'azienda israeliana che produce macchinari per chirurgia estetica non invasiva e tra l'altro è famosa in tutto il mondo pensate che vendono i macchinari anche in Italia per questo da una parte mi stupisco anche comunque se volete approfondire l'azienda vi lascio magari il link in descrizione del loro sito in cui potete andare a vedere alcuni macchinari che utilizzano questi qua ad esempio sono alcuni ovviamente io non sono del settore però vedendo anche le recensioni online mi sembrano super positivi e la crescita del fatturato neanche un indicatore comunque direi che la cosa migliore è buttarci sui numeri che sono quelli dove siamo più forti in mod pensate che nonostante il crollo clamoroso che ha avuto dal 2021 fino ad adesso infatti ha perso 62% ha avuto una performance negli ultimi 5 anni all'incirca di un 406% annientando quello che è il suo indice di riferimento ovvero il Nasdaq pensate infatti che nell'ultimo anno ha avuto una performance negativa del meno 30% e considerate anche che nonostante questo crollo qua visto che io ci investo praticamente da due anni e mezzo sono comunque in guadagno e non di poco e sta diventando anche una delle mie posizioni più grandi perché ho continuato sempre ad accumulare fatevi sapere tra l'altro se la conoscevato o no perché io sono quasi sicuro di averne parlato qualche anno fa sicuro sul canale non mi ricordo se in un video specifico o in un video dove andavo a vedere tre azioni interessanti ma sicuramente ne ho parlato per quanto riguarda lo stato patrimoniale penso come vi dicevo prima insieme ad Alibaba, Google e poche altre abbia uno dei migliori stato patrimoniali che ci sia al mondo pensate infatti che Cash ha praticamente 480 milioni di dollari contro un debito totale considerando anche quello a lungo termine all'incirca di 4 infatti ha uno dei voti più elevati che abbiamo mai visto infatti ha 9.11 su 10 quindi situazione debitoria praticamente perfetta e considerate anche il fatto che ha un free cash flow annuale all'incirca di 170 milioni di dollari quindi il lato debiti e lato solvibilità siamo a postissimo per quanto riguarda anche i margini è una delle migliori aziende che conosco infatti ha un gross margin dell'84% un net margin signore del 40% un ROI del 36% un ROI del 40% ora ditemi voi ci sono delle cose che non vedo? direi di no non mi sfugge quasi nulla però magari ci sono cose che il mercato non sta vedendo o che il mercato sta vedendo e che io non vedo non voglio essere presuntuoso per quanto riguarda la situazione sui multipli anche qua la situazione è perfetta abbiamo un price earnings di 17 per un'azienda che cresce a ritmi abbastanza elevati un price to free cash flow sempre 17 un price to series di 7 che si non è bassissimo però dovete anche considerare i margini che ha che sono altissimi facendo un semplice discounted cash flow dove andiamo a stimare all'incirca una crescita del 15-20% anno per i prossimi anni e un perpetual growth rate del 2-5% otteniamo una sottolotazione all'incirca di un 130% e questo è dovuto principalmente al fatto che abbia praticamente zero debiti abbia quasi 500 milioni in cash e quindi tutto free cash flow che ha e che produce rimane in azienda e per quanto riguarda la votazione sui multipli la situazione non cambia tantissimo perché se noi prendiamo l'utile operazione attuali e stimiamo una crescita che prevedo io insieme agli analisti all'incirca del 15-20% anno e attribuendo un PE corretto che secondo me anzi è abbastanza basso di 20 otteniamo un possibile guadagno da 4 anni al circa di un 90% non so se ho la gallina delle uova d'oro davanti e per fortuna me ne sto rendendo conto o se c'è appunto qualcosa che gli altri vedono e che io non vedo detto questo fatemi sapere questo nei commenti cosa ne pensate voi e vi ricordo soprattutto di lasciare likes perché queste sono piccole chicchettine che vi posso portare solo una volta al mese e quindi vi chiedo il supporto che secondo me il video merita detto questo ci vediamo al prossimo video ciao a tutti